Bella a tutti ragazzi qui dal vostro Daniel Street, siamo su PES6 con il girone B del torneone, come l'ho chiamato, da tutte le squadre classiche, siamo con la Samp e facciamo un recap. Siamo in una posizione... abbiamo fatto una partita ricordiamo perché sono 15, quindi noi abbiamo già fatto la seconda giornata di riposo e siamo calendario Bayern Monaco, vedremo in questo video, e questa cos'è? Il Cruzeiro. Ok, due partite, ecco, adesso parlo direttamente agli iscritti, voi che so che potete commentare, che vi piacciono questi video. Cosa faccio? Continuo a fare delle partite lunghe per intero oppure vi mostro gli highlights? Diciamo, faccio dei tagli così poi faccio vedere più partite. Oppure vi interessa la partita intera? Per me è indifferente, tanto le devo comunque giocare tutte per intero. Quindi, se me lo potete scrivere nei commenti, ve ne sarei grato. Bene, subito, Bayern Monaco che è prima in classifica, 6 punti, punteggio pieno. Noi possiamo anche... vi ricordo nomi che non avete mai sentito perché sono giocatori inventati. Orlando Furioso, sì sì sì, lo metto. Il posto di Vialli. E cosa volevo dire? Sì, Bayern Monaco che è primo, minchia, punteggio pieno, ma non è così forte rispetto ad altre. Anche se dai nomi che presenta nella formazione sembra comunque uno squadrone. All'Olimpia Stadium. Ma non è così, ecco, almeno nei campionati, nelle coppe, eccetera. Non lo so, forse sarà stata la formazione data a Bayern Monaco, ma non è mai riuscita a fare tanto, ecco. Bene. Siamo pronti. E' difficile dire con certezza chi potrà vincere il campionato. L'Au-Drup. E qui invece Mancini. Che dà indicazioni a Vierwood. E andiamo. Torando Furioso, direttamente... Speriamo che non manchi lo spettacolo. Le televendite. Vediamo che sarà più determinato a vincere questo incontro. Attenzione. Bregel, prova, subito, lancio filtrante. Mancini. Perretrini, Vierwood. Si cerca di... alzare... la squadra e di allargarla. Attenzione, Mancini. Bayern Monaco non ha ancora toccato palla. Noi cerchiamo di... No, ho sbagliato adè. Forca vacca. Attenzione, subito, riconquista palla. Non riesce. No, non riesce. Matteus. Palla per Lauterick. Gioco con un 4-3-3 offensivo. E dai, arbitro su. Che gioco un po' più maschio. Attenzione. Cross. Oddio. Ci arriva Pagliuca. Beckenbauer. Dalla bandierina. Wierdwood. Stacca. E Hockvirk. Di parte. Prende la palla a Oenis. Oenis. Che lo lascia sedere. Poi Mancini. Mancini. Per Cattaneccio. Bravo, Matteus. Buttala fuori. Mi raccomando. Briegel. Eccolo con Mancini. Dai, ma su. Ma un po' più veloce la palla. 15 minuti al fischio finale della prima. Attenzione, attenzione. Occio, occio. Madonna. Attenzione. Briegel ancora. Cattaneccio. Ecco. Sbagliato. Però, meno male che l'arbitro fischia tutto. Eccolo, eccolo Mancini. Mancini crossa per Orlando Furioso. Colpo di testa da dimenticare. Non si è accorto che il pallone stava uscendo. L'arbitro ha deciso di dare tre minuti di recupero. È velocissimo. Attenzione, intanto recupero. Rumening anche. Rumening è stato all'Inter, ma poi era stato messo nel Bayern Monaco, semplicemente perché ha fatto più anni al Bayern Monaco. E quindi l'abbiamo poi deciso di inserire lì. Devo togliere questi effetti al pallone che mi stanno sul cazzo. Ma poi non si va da nessuna parte. Ok, Virga. Tannino Cereza. Palle per Lombardo. Dai, dai, dai. Vai, vai. Madonna. Lombardo Mannini. Ok. Cross Mancini di testa. Esce Maier. No, non ci siamo. Vediamo un po'. Ci metto Brady al posto di Catanzi. Faccio questo cambio. Non so neanche perché l'ho fatto. Stai bravo, che ci penso io. Veloce, veloce, veloce. Bravo, Orlando. Sì. Mi riguarda il vantaggio. Attenzione, attenzione. Orlando, Orlando. Porca vacca, come ha sfiorato il palo. Ma a chi la passavo, Mauro? A chi la passavo? Ok, Virga. Ancora Orlando, Orlando, Orlando. Bisogna sfruttare Orlando, secondo me. Con la sua grinta. Fallo, fallo, fallo. Dai, 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 che adesso... Dai che si va a segnare. Qualcuno... Ecco. Proprio vero che quando non trovano nessuno... Faccio altri cambi, altri cambi. Mancini fuori. Francis. L'allenatore ha deciso per un altro cambio. Ho nessun gol ancora nella ripresa. E l'allenatore ha deciso di fare la prima mossa dell'incontro in questo caso. Francis, Orlando, dai. Ok. Porca vacca. Eccolo. Eccolo. Dai, Francis. Dai. Ad esempio, in una partita del genere, io vi mostrerei praticamente tre highlights. Tre di numero, eh. Perché effettivamente non c'è stato molto. Mateus. Poi va a girarsi. Per crossare. Lomardo lo insegue. Intanto Beckenbauer. Beckenbauer fermato. Dai. No, è finito. Gran lavoro per conquistare il pallone. Riuscirà a trovare un compagno smarcato. Scelta perfetta. Eh, lì. Vabbè. Palla aperta. Adesso fischia. E finisce qui. Paregino. Zero a zero. Effettivamente, io forse sarei dell'idea di fare più partite. E poi vi faccio vedere, giusto, gli highlights. Perché? Perché poi possono capitare delle partite così, dove non c'è niente. Gli momenti salienti. Dove anche PES è costretto a far vedere i falli. Per riempire un po'. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero. Cioè, guarda, sono finito. E vabbè. Schwarz è il migliore giocatore. Oh, bene. Partita andata. Calendario. Vediamo un attimo. Allora. Allora. Zero a zero anche San Paolo Santos, che hanno fatto il derby. Marseilla vince sull'Inter. Liverpool sul Boca. Il Cruzeiro incredibilmente sulla stella rossa. E l'indipendiente sul Napoli. Come National sull'Ajax. Vediamo un po'. Anche in questo caso, ricordiamo, che ne passano sette, più la vincitrice della Coppa, IS. Però, per ora, va tutto bene, ecco. Tutte possono ancora passare. Prossimo incontro. Cruzeiro. Siamo così? Sì. Ma, secondo me, questa formazione qua non c'ha zecca un belino. perché solo da... perché da un lato non ho, praticamente... solo dalla destra io dovrei puntare. Non mi ricordo perché alla fine era venuta così. La formazione. Adesso provo. Mancini fuori. Orlando Furioso e Vialli. Poi facciamo Katanez. Ci metto Jukovic. E' il fatto che non sono neanche stanchi, perché, cioè... L'ho detti, eh? L'ho detti... L'ho detti... L'ho detti... lo potrei portare. E ci mettiamo... ci mettiamo qua... il grande Dennis Sansevieri. un personaggio, un amico... di molte battaglie. Ecco. Adesso vediamo già che è terza giornata. Abbiamo già visto la seconda giornata che rispetto alla prima non presenta pubblico. E' come se fosse a porte chiude, praticamente. Nessuno che vuole vedere la sfida tra... Minchia. La sesta... Cruzeiro e la terz'ultima. E' da, non si fa. Ci sono sempre due squadroni classici. L'arbitro è pronto a fischiare il calcio d'inizio. Che hanno una loro... dignità, una loro identità. E' molto difficile poter esprimere dei giudizi... Brito, Minchia. Cruzeiro... La squadra più scarsa, forse... Almeno... Delle squadre sudamericane. Ecco. E già, però la cosa scarsa l'abbiamo fatta noi. Allora, noi siamo i blu, eh? Dai, eccolo! Eccolo! Dennis! Bravo! 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 Che l'aveva anche presa! Oh! Dai, bisogna emozionarsi, eh, con la Samp. Perché questa volta ho voluto fare il girone, non con una squadra troppo forte, ma con una Samp qualunque. Toninho butta giù! E forse... Infortunio. Ah, c'è anche Tostà, o Belin. E' vero. Qua tira. Sorin. Gercut. Non la perdere, non la perdere, non la perdere, non la perdere. Gira attorno. Briegel. Per Nelinho. Sì, Nelinho. Però Orlando Furioso. Orlando Furioso scatta. Scatta Orlando Furioso, ma Nelinho... Attenzione, come se lo beve? Eh? Orlando Furioso stecca. Qua si stecca, eh. Qua si stecca, eh. Rispetto... Alla scorsa partita. Intanto Alex entra a posto di Tostau. Ma Alex non era un... Infessore. No, forse no. Mi confondo. Orlando! Orlando! Bravo! È un fenomeno! È un fenomeno! Papà, lei è lì! Oh, per... Dai! Devi calciare subito, di prima! Eh, vabbè, questo qua si era fuori gioco di... Minchia, fuori gioco di un secolo. Però... Dai, 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 che si può vincere qua. Però bisogna... Bisogna far gol qua. Attenzione, Jugovic. Palle per... Ok, Virg. Eccolo! Ma, d'acqua! Ma, Orlando, ma come è possibile? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? È buona? Bene. Fine primo tempo. Bisogna cercare di... Di segnare qua. Sennò... È tutto abbastanza noioso. Sì, hanno fatto bene. Devono soltanto continuare così... Non mettoci in blanco. Dunque... Inizia il secondo tempo. I giocatori riusciranno a seguire i consigli dei loro allenatori. Ok. Neligno per Alex. Che gioca... In realtà... Lo fa giocare quindi centrocampista. Dennis. Neligno. Ok, subito di prima. Tutto di prima. Ma che schifo, guarda. Che schifo. Adesso si guarda attorno in attesa di un compagno smarcato. Dai, dai, dai. Sceglie di scendere sulla destra. Io me lo sono perso. Stanno difendendo bene. Molto bene. Bravo. Ecco una fuga in contropiede. Eh, buona. Procopio. Giozzinio. Giozzinio. Giozzinio di Rousseau Lopez. Bloccato. 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 Bloccato forse anche Alex. Attenzione. Aristizizabalabac. Ma non di lì. Dai. Corri, corri. Bastardo. No, niente. Sarà rimessa laterale. Paraliglia-Marcelo-Ramos. Ma vaffanculo, va. Ultimi 15 minuti di gara. La difesa deve rimanere incollata agli uomini adesso. Si guarda attorno in attesa di un compagno smarcato. Concesso una punizione in una zona molto interessante. Dennis fuori. Ha punto stretti, signori. È il mio fratello. Anche lui fa parte dei giochi. Sì, 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 sì. Dai. Non ce la fa. Non ci riesce. Non ci riesce. No, no. La vedo male, guarda. La vedo molto male se non riesce a segnare. No, la vedo veramente male. Se non si riesce a segnare. Per fare qualcosa con questa squadra. Palla filtrante con discesa sulla sinistra. Platt, platt. No, no. No, all'ultimo secondo. All'ultimo secondo sul palo. Cioè, a fil di palo. Non è possibile. 2-0-0 di fila. Infatti fa vedere i falli. Ma dai. Ma che ridere, guarda. Che ridere. No, San Penoso. San Penoso. Devo cambiare... Devo cambiare formazione qua. Avete visto in questo video due partite non troppo entusiasmanti. Ma signori, le prossime sicuramente arriveranno. E intanto, settaggi generali, io ci tolgo. Ma come l'effetto del pallone non c'è. E me lo dà lo stesso. Perché questa cosa? Vabbè. Niente, questo è. Stellarossa e Liverpool sono proiettate. Con Bayern Monaco e Cruzeiro che inseguono. Poi tante a 6 punti. E noi che siamo lì. Niente vittorie. Niente sconfitte. Però tre pareggi del cavolo. E cerchiamo di rifarci la prossima. Che è calendario. Cos'è? Di coppa? Siamo in coppa contro? Niente. Perché chiaramente il computer ci dà la possibilità di passare. Direttamente. Quindi saremo contro Sandus o Bayern Monaco. Ma non ci interessa. E niente. Comunque se vi è piaciuto il video. Lasciate un like. Vi invito a lasciare un commento. Quello che vi pare. Ma soprattutto iscrivetevi al canale. E niente. Noi ci rivecchiamo. Alla prossima. Ciao. Ciao.